buonasera buonasera a tutti questa sera abbiamo una live molto particolare innanzitutto perché è venerdì e noi di solito facciamo la live il giovedì ma ieri sera sono stato insomma in collegamento con formigli e quindi era il caso di rimandare ma soprattutto perché questa sera ospitiamo un politico che ha deciso di venire a discutere di nucleare in casa nostra diciamo in trasferta si può se così si può dire e quindi innanzitutto benvenuto massimiliano Iervolino e grazie di aver accettato questo invito devo dire non è da tutti non tutti avrebbero accettato un confronto in casa d'altro e poi abbiamo ovviamente pur giocando in casa l'arbitro serve e quindi abbiamo Matteo Allisei che modererà questa questo incontro Matteo è un ragazzo del 2003 quindi ha appena 18 anni e ciò nonostante è già membro di numerose associazioni legate al mondo politico del centro liberale dei radicali ma anche liberi oltre le illusioni con i quali abbiamo già avuto collaborazioni in passato e anche Economia Italia che conoscete tutti perché Umberto è stato ospite nostro diverse volte e noi siamo stati ospiti loro diverse volte ciao Luca buonasera grazie per l'invito ciao Matteo allora io adesso da questo momento in avanti cedo a Matteo lo scettro di conduttore lui farà le domande eh lui deciderà quali domande del pubblico prendere io e Massimiliano faremo una discussione speriamo amichevole e costruttiva perfetto grazie Luca e speriamo di utilizzare bene questo potere questo scettro che mi dai allora noi vorremmo scritturare il dibattito che durerà circa un'oretta ehm tramite poi vediamo come si evolverà e quante domande arriveranno dal pubblico ma già vi inviterei a fare domande e diciamo esporci tutte le vostre le vostre curiosità eh tramite quattro minuti a testa di di risposta alle domande che che vi pongo eh naturalmente abbiamo diritto di replica quindi se c'è una tematica particolarmente interessante volete approfondirla un pochino di più credo che si possa assolutamente fare io partirei chiedendo proprio all'ospite insieme a me Massimiliano Iervolino segretario di radicali italiani qual è la posizione odierna dei radicali in generale sull'ambiente che è stato trattato molto penso anche a Ic e Nunc e diciamo una serie di eventi che hanno fatto i radicali sull'ambiente quindi visto che c'è questo focus qual è la posizione in generale sull'ambiente e cosa pensa in particolare del nucleare affissione ok grazie innanzitutto grazie dell'invito che devo dire ho accettato senza problemi anche perché i confronti eh quando sono civili sono sempre ben accetti allora sulla questione ambientale io credo che eh un punto centrale che io considero tale è il PNRR quindi tutto quello che c'è scritto all'interno della transizione ecologica quindi del capitolo all'interno del PNRR lo reputo centrale per due motivi innanzitutto perché è un piano finanziato e questo non è poco è circa finanziato con 70 miliardi di euro provenienti dalla dall'Europa ed è un piano che ci può permettere di aggredire due ordini di problema il primo ordine del problema che è quello più ambientale è quello proprio derivante da un debito ambientale che abbiamo in Italia enorme soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture che dovrebbero servire a governare il ciclo dei rifiuti a bonificare i siti di interesse nazionale e soprattutto a mettere eh a terra quello che dovrebbe essere la depurazione che soprattutto nelle regioni del centro sud sono un enorme problema noi abbiamo delle procedure di infrazione eh che sono arrivate a doppia sentenza della Corte di Giustizia europea e ogni anno paghiamo milioni e milioni di euro proprio perché questo paese è rimasto indietro è proprio per quello eh il PNRR può essere un'occasione per recuperare quel terreno all'interno di questo PNRR quindi sulla transizione ecologica ci sono anche dei soldi su un eh capitolo molto particolare che è quello che interessa anche il pubblico che ci sta seguendo che è quello della transizione energetica all'interno di questo piano c'è un obiettivo da qui al duemilatrenta cioè di quello di mettere a terra settanta gigawatt di potenza da energie rinnovabili questo vuol dire mettere a terra circa sette punto sette sette punto otto gigawatt all'anno per raggiungere il settantadue per cento di energia da rinnovabili entro per l'appunto il duemilatrenta qualcuno ha detto mai che solo con le rinnovabili si risolve il problema da qui al duemilatrenta è chiaro che no perché c'è e continuano ad esserci dei problemi enormi per quanto riguarda gli accumulatori sappiamo che l'energia rinnovabile è un'energia non continua ma discontinua e sappiamo che per avere un'energia continua attualmente c'è solo la questione solo la fornitura di gas che può praticamente dare in continuo quello che ci serve questo è il piano questo è il pnrr quello questo è quello che l'europa ci ha finanziato poi se volete non so se ho finito i quattro minuti da questo partiamo per discutere partiamo partiamo per discutere della questione nucleare ora sulla questione nucleare ci sono una serie di problemi che io ho tentato più volte di esporre prendendo ma anche molti insulti però non è non è importante cerchiamo di capirci allora sulla questione nucleare affissione ci sono una serie di problemi che per me sono problemi grossi lasciamo per un attimo perdere che in questo paese ci sono stati due referendum ok ci sono stati due referendum sulla questione nucleare lasciamo perdere tutti dicono che sono stati vinti sulla sulla paura lasciamo lì un attimo perdere c'è la prima questione la prima questione è e riguarda l'eventuale individuazione dei siti dei siti dove fare le centrali noi sappiamo benissimo perché noi lo sappiamo voi lo sapete perché ve ne occupate da tanto tempo che questo paese è sotto procedura di infrazione per la mancanza di un deposito per le scorie ora questo che vuol dire che io dico non facciamo le centrali nucleari perché non c'è il deposito no voglio dire un'altra cosa voglio dire che questo è un paese molto particolare nel senso che c'è un problema enorme tra le istituzioni e la popolazione perché in quel per finirci pure il discorso no 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 volevo solo cacciare il primo tirare fuori il primo punto il primo punto su cui noi dovremmo discutere perché la teoria va benissimo va benissimo tutto quello che vogliamo possiamo fare i grafici poi le cose però bisogna metterle a terra e per metterla a terra bisogna capire qual è la condizione del paese qual è la condizione delle istituzioni e qual è la reale messa possibilità di mettere a terra una centrale o più centrali nucleari questo è il primo punto poi tocco gli altri perfetto grazie massimiliano vi darei direttamente la parola a luca per rispondere si sono tirati fuori molti spunti dal deposito al referendum quindi direi che c'è carne al fuoco per una risposta da parte tua sì allora in realtà molte delle cose che ha detto massimiliano le condivido nel senso il pnrr pone in essere una serie di misure interessanti sulla transizione io sono scettico sulla possibilità di arrivare realmente al 72 per cento di energia rinnovabile entro il 2030 anche mettendo giù tutti questi gigawatt io non credo che si arrivi a quelle percentuali perché il capacity factor delle rinnovabili in italia non è così alto ma supponiamo che ci si riesca io io la mia previsione un 55 per cento avendo un po studiato anche l'insolazione come dire l'uptime dei venti in italia la mia previsione che si possa arrivare a un 55 per cento ma mettiamo che si arrivi pure al 70 con qualche sistema di accumulo che verrà installato nei prossimi anni resta quel 30 che non è decarbonizzabile con le rinnovabili quel 30 per cento l'orizzonte per decarbonizzarlo non è il 2030 è il 2050 quindi è ovvio che l'ipotesi del nucleare non va considerata ma questo lo ripeto sempre non va considerata come una misura immediata non va considerata come una roba che va a risolvere i problemi del caro bollette per esempio l'ho detto anche ieri sera da formigli è una cosa che andiamo a fare nell'orizzonte della metà degli anni 30 cioè iniziamo adesso o tra un paio d'anni che maturino i tempi e avremo le centrali pronte nel metà degli anni 2035 nel 2036 37 con l'obiettivo di raggiungere il net zero al 2050 che è alla fine il diciamo l'obiettivo finale e quindi è chiaro che gli orizzonti temporali sono diversi e quindi in questo senso io non considero il nucleare un'alternativa al piano nazionale di ripresa e resilienza e al ai progetti di efficientamento installazione di energie rinnovabili attualmente approvati e finanziati dopodiché per quanto riguarda il discorso del referendum per me il discorso non è tanto quello della paura e il fatto che il referendum del 1987 riguardava tutt'altro riguardava se enel dovesse gestire o meno impianti all'estero infatti adesso li gestisce perché nel frattempo è stata privatizzata riguardava l'opportunità di dare o meno incentivi ai comuni che ospitavano gli impianti ma non c'era scritto di chiuderli né tanto meno di non smettere di costruirne e la possibilità per lo stato di decidere sulla locazione degli impianti nel caso gli enti locali non fossero riusciti a mettersi d'accordo non c'era scritto nessuna parte che bisognava chiudere le centrali nucleari neanche che bisognava smettere di costruirne è stata una decisione politica quella e lo stesso vale nel 2011 nel 2011 non è stato introdotto un divieto di nucleare è stata perché non esiste il referendum propositivo in italia è stata abrogata una legge che proponeva in quel contesto specifico di una norma del governo berlusconi che proponeva la reintroduzione del nucleare poi fatto che il referendum sia stato fatto quattro mesi dopo fukushima chiaramente non avrà aiutato però ecco in italia non c'è un divieto di nucleare per introdurlo basterebbe una legge è chiaro che c'è una popolazione che è scettica quando non direttamente ostile e che questo è un problema che va risolto che il motivo per cui io dico quando mi chiedo non perché non raccogliamo le firme per un referendum a favore del nucleare e dico perché bisogna convincere le persone e in questo senso effettivamente c'è un problema che però non riguarda solo il nucleare riguarda tutti i tipi di impianti anche quelli rinnovabili e questo perché a mio parere una certa parte della politica ha per anni venduto delle delle promesse finte cioè si è andati avanti per anni a dire che le rinnovabili erano impatto zero e gratis chiaro che quando poi salta fuori che il parco eolico da fare nel canale di sicilia ha una feed in tariff concordata di 150 euro megawattora e le turbine sono larghe 250 metri bisogna installarne 190 e come dire ci sono queste problematiche qua la gente dice ma come mi avevate promesso che era gratis non lo voglio adesso tempo luca e quindi il problema del nimbismo chiamiamolo così va risolto per tutte le tecnologie inceneritori biodigestori rinnovabili e in questo contesto anche per il nucleare per il deposito nazionale certamente che va fatto come diceva il ruolino siamo in procedura di infrazione ma anche poi per eventuali futuri impianti nucleari perfetto grazie luca noi ovviamente ribadiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo la possibilità anche di porre direttamente domande curiosità dubbi in chat e avremo premura di dimostrare le nostre ospiti eh nostro ospite e ovviamente a luca il padrone di casa eh nel corso della diretta dunque io chiederei a massimiliano un'altra curiosità un diciamo uno spunto da cui potremmo partire per proseguire questa nostra chiacchierata ovvero se fossi stato segretario dei radicali al momento in cui sono stati fatti quel referendum avresti avresti avuto le stesse posizioni perché oggi molti radicali dicono probabilmente oggi è troppo tardi secondo loro però forse all'epoca però chiariamoci però chiariamoci sulle posizioni sì perché altrimenti non ci capiamo e altrimenti si fa solo casino da social allora io non di non sono un ambientalista di quelli proprio estremisti che dicono domani mattina quello che chiedevo domani mattina dobbiamo chiudere le centrali in Francia dobbiamo chiudere le centrali in tutta Europa e negli Stati Uniti da America dico che ogni nazione ha una sua storia quella storia va rispettata e visto che ogni nazione ha la sua storia tutti devono fare il massimo sforzo per arrivare a due obiettivi il primo obiettivo è quello del meno cinquantacinque per cento di CO2 equivalente entro il duemilatrenta il secondo obiettivo è quello della decarbonizzazione entro il duemilacinquanta tutti sappiamo qual è il punto d'arrivo i punti di partenza sono sono diversi perché ognuno ha la sua storia ma storia democratica e politica ora e riprendo quello e riprendo quello che diceva Luca Luca in una cosa sbaglia cioè lui dice c'è il problema che tutti gli impianti vengono contestati verissimo vengono contestati gli impianti di compostaggio vengono contestati gli impianti di incerenimento vengono contestate le pale eoliche vengono contestate chiaramente le centrali nucleari è chiaro che nell'immaginario collettivo una centrale nucleare viene verrebbe contestata più di un impianto eolico o di un impianto fotovoltaico dopodiché però noi bisogna noi bisogna entrare nell'ottica che questa contestazione è dovuta al mal funzionamento di queste istituzioni non tanto perché gli mettono l'impianto lì e fanno come vogliono ma perché in in materia ambientale questo paese ha fatto disastri disastri a partire dalla regione campania con i rifiuti a partire con l'ilba di taranto a partire da tante questioni che si sono aperte in italia che il rapporto tra cittadini e istituzioni si è così rotto che qualsiasi impianto uno va a mettere per terra è un problema perché faccio questa premessa per arrivare alla questione nucleare perché da una parte ci sono 70 miliardi usato mandati dalla commissione europea per il pnr decidiamo che domani il governo fa una legge come dice luca per mettere una centrale due centrali tre centrali nucleari e diciamo anche che c'è la localizzazione delle centrali benissimo chi è chi è quale imprenditore andrebbe ad investire su una cosa del genere che voi siete più esperti di me una centrale nucleare quanto può costare 7 8 9 10 miliardi questo mi risponde luca chi è quell'imprenditore quel folle che si mette in testa di fare una centrale nucleare che gli potrebbe costare dai 5 10 miliardi sapendo che c'è il 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 tar il consiglio di stato un possibile referendum abrogativo è tutto quello che sappiamo allora io che cosa dico io dico una cosa grazie a quei soldi arriviamo al duemilatrenta raggiungendo l'obiettivo del meno cinquantacinque per cento di c2 che l'europa ci impone nel duemilatrenta vediamo la ricerca scientifica che passi avanti a a fatto cioè io non sono un estremista io ho le stesse posizioni del ministro cingolani che vi dice aspettiamo da qui al duemilatrenta alla ricerca scientifica che passi a fatto la quarta generazione vediamo i piccoli reattori vediamo la fusione nucleare ancora troppo presto perché stiamo ancora a cinque secondi però se non vediamo se non facciamo questo percorso e andiamo per tifoserie da una parte romano e da un'altra parte bonelli non ne usciamo ma se veniamo proprio su questo la mia domanda ma poi te la parlo dopo quello che volevo farti inizialmente era ma anche proprio secco se vuoi in chiusura del tuo intervento nell'ottantasette radicali hanno fatto bene o no al di là del futuro allora nell'ottanta sette i radicali quando proposero poi me li sono andati a ascoltare perché ero nell'ottantasette avevo dodici anni mi sono andati a riascoltare i come si chiama i comizi di pannella sulla questione nucleare e marco non chiedeva solo le centrali la chiusura delle centrali nucleari ma chiedeva in propositivamente un piano energetico nazionale cosa che questo paese non ha mai avuto punto luca eh allora di nuovo concordo in buona parte con quello che è stato detto ovvero che in italia c'è una distanza enorme tra i cittadini e le istituzioni i cittadini non si fidano delle istituzioni e eh e questo ovviamente questa sfiducia ha delle conseguenze lui dice quale imprenditore investirebbe nel nucleare in italia eh evidentemente eh diciamo diciamo che il problema è un po' diverso nel senso che eh prima di andare a raccogliere i soldi dagli imprenditori prima di andare a vedere gli investimenti eh ci sarebbe da decidere la locazione del sito in accordo con gli enti locali quindi a quel punto eh i giochi sono fatti tra virgolette il il referendum l'eventuale referendum abrogativo è già stato fatto eh e via dicendo ma al di là di questo poi io penso che eh tra l'altro il costo di una centrale nucleare per informazione il costo overnight siamo sui tre miliardi e mezzo poi ci sono gli ci sono i tassi di interesse e a seconda del tasso di interesse applicato possiamo andare a cinque miliardi o a dodici se il tasso di interesse del tre per cento o del dieci quindi eh ovviamente questo l'instabilità politica fa salire i tassi di interesse appunto eh quindi e però la cosa su cui non condivido è di ehm arrivare al 2030 e poi guardarci andare capire a che punto è la ricerca scientifica sul nucleare e capire quali tecnologie sono a disposizione perché perché eh proprio perché il nucleare ha delle tempistiche che sono non sono diciamo il tempo di implementazione del nucleare non è rapido come quello delle rinnovabili occorrono occorre fare delle normative occorre creare un ente regolatore o meglio in Italia c'è già perché abbiamo avuto un programma nucleare passato ma bisognerebbe ristrutturarlo e potenziarne i poteri eh occorre creare un ente radioprotezionistico occorre occorre tutta una serie di step preliminari che richiedono alcuni anni di tempo e soprattutto se vogliamo davvero eh che pensare ipotizzare il nucleare bisogna iniziare a costruirlo ma non nel senso di costruire le centrali ma costruire il consenso da prima cioè perché se vogliamo davvero pensare al 2050 dobbiamo iniziare già adesso a pensare al 2050 non possiamo dire arriviamo al 2030 e poi vediamo dobbiamo avere un piano a breve termine che è quello di cui abbiamo parlato finora del meno 55 per cento al 2030 sul quale concordiamo ma bisogna avere un piano a lungo termine già da adesso non dal 2030 perché al 2030 non sarà più a lungo termine ci resteranno vent'anni e vent'anni sono pochi tenete presente che noi oggi siamo nel 2022 dal 1990 ad oggi le emissioni sono calate meno di quello che dovrebbero calare da oggi al 2030 e quindi questo ci dice che avere l'orizzonte di lungo termine è fondamentale per questo che sarebbe importante da un lato assolutamente guadagnarsi la fiducia delle persone ed è per questo che ho come dire creato un progetto di divulgazione scientifica sull'energia nucleare bisogna far capire alle persone che si tratta di un'energia più sicura molto più sicura di quanto viene lasciato intendere che la produzione di rifiuti è molto molto bassa e sono rifiuti molto controllati e tutta una serie di cose e mentre si fa questo si possono già iniziare a mettere quei mattoncini preliminari che servono poi all'avvio di una di una centrale nucleare cioè si possono iniziare a reintrodurre il nucleare nel discorso politico fare le riforme di cui parliamo introdurre le normative potenziare l'ente di controllo e via dicendo così poi al 2030 prendiamo la migliore tecnologia disponibile in quel momento e però apriamo il cantiere subito nel 2030 non è che altrimenti nel 2030 ci ritroviamo poi a dover fare tutta una serie di step preliminari il cantiere lo apriamo nel 2035 la centrale l'abbiamo nel 2043 e però se dobbiamo avviarne siccome di centrale migliore non dobbiamo avviare uno ma minimo minimo una quindicina se vogliamo pensare di sostituire combustibili fossili questa è una cifra realistica e allora se iniziamo nel 2035 nel 2050 non finiamo ecco luca mi collegerei proprio a quest'ultimo fatto che hai citato prima di dare nuovamente la parola massimiliano magari anche per appunto replicare sulla questione del della strategia che dobbiamo adottare già da oggi massimiliano voi come radicali tu come un persona che si è interessata molto al tema oltre a ovviamente l'investimento nelle rinnovabili cosa proponete a livello di carico di base e quindi di mix energetico noi nei prossimi anni allora parliamo dell'italia perché come ho detto prima poi le situazioni sono diverse anche se a uno piacerebbe avere anche a vedere anche un piano energetico europeo no perché parliamo dell'europa uno dovrebbe dovrebbe lavorare per avere un piano energetico europeo è chiaro che lì ci sono tutte le problema delle reti ma anche un problema un problema politico perché per avere un piano energetico europeo devi mettere d'accordo 27 stati e visto che non abbiamo purtroppo il presidente degli stati uniti d'europa ma abbiamo un meccanismo intergovernativo diventa diventa tutto un casino però uscendo da questo allora fino al duemilatrenta io mi attengo a quello che dice il pnr e combatterò dalla mattina alla sera per far sì che quel piano venga attuato perché non è detto che quel piano lo riusciamo a mettere per terra per due ordini di problemi il primo ordine di problema è quello burocratico perché lì le aste vanno quasi deserte perché c'è un problema burocratico autorizzativo in italia enorme secondo ordine di problema perché come diceva anche luca c'è un problema della popolazione che siamo arrivati al paradosso che qui si contestano anche gli impianti eolici e gli impianti solari quindi non è detto che noi nel duemilatrenta riusciamo a installare 70 gigawatt di potenza per avere il 72 per cento da rinnovabili e quindi io quello che farei è battermi perché quel piano fa va va in porto e quindi va va messo per terra perché poi quel piano si porta dietro dietro tante cose per arrivare al duemilacinquanta come ho spiegato come ho spiegato prima noi a mio avviso senza un innovazione tecnologica perciò bisogna mettere parecchi soldini sulla ricerca scientifica senza l'innovazione tecnologica noi non arriveremo mai alla neutralità carbonica entro il duemilacinquanta mai allora a quel punto la scienza a mio avviso ci deve dare fondamentalmente tre risposte la prima risposta è quella sugli accumulatori perché sappiamo che le rinnovabili senza gli accumulatori funzionano poco è per fare un accumulatore perché serve roma dovrebbe essere grande quanto al colosseo e quindi la cosa non è fattibile la seconda risposta è quella che dice cingolani quando parla di piccoli reattori di quarta generazione la terza risposta è quella che a mio avviso mi posso sbagliare però è quella che secondo me risolverebbe non dico tutti i problemi ma ci permetterebbe di arrivare alla neutralità carbonica e la risposta è la fusione nucleare ora questi sono a mio avviso i tre canali che bisogna seguire per arrivare alla neutralità carbonica che non si arriveranno nel duemilacinquanta si arriveranno nel duemilacinquantacinque però basta che ci arriviamo dopodiché ci dobbiamo anche rendere conto che il nostro paese pesano un per cento della co2 equivalente di tutto il pianeta e qui bisognerebbe spostare tutto il discorso a livello geopolitico massimiliano se posso ti interrompo soltanto per c'è ancora un minuto finito lo sfruttiamo lo sfruttiamo chiedendoti all'inizio la mia domanda era soprattutto legata a cosa proponete come carico di base oltre alle rinnovabili da qui a appunto la durata del carico il carico di base il carico di base come ho detto prima è chiaro che noi se abbiamo se abbiamo le rinnovabili dall'altra parte ci vuole un un carico di base che sia stabile quindi il gas perfetto luca allora dunque a me spiace molto dover un po' ammazzare i sogni di massimiliano ma la fusione da qui al 2050 non ce l'abbiamo nel senso che il 2055 non lo so no no allora è possibile che nel 2050 avremo dei prototipi di reattori a fusione per produzione di energia elettrica ma da quelli ad avere una fusione disponibile diciamo su scala commerciale su scala industriale saremo nel 2070 non nel 2055 cioè la road map europea del programma euro fusion che conosco molto bene prevede che iter inizia a produrre plasma quindi a fare i test con plasma ad alta temperatura nel 2025 primi esperimenti sulla fusione nel 2035 attenzione che iter non sarà un reattore per produzione di energia elettrica nel 2030 inizierà la costruzione di demo che sarà il primo reattore destinato a produrre energia elettrica da fusione se iter funziona nel frattempo allora demo sarà ultimato nel 2050 quindi nel 2050 avremo il primo reattore a fusione collegato alla rete e sarà un reattore da 500 megawatt di potenza elettrica da lì a farne una tecnologia in grado di fornire quello che è il carico che serve all'italia cioè adesso siamo tra i 20 e i 60 gigawatt 20 di carico di base 60 di picco capite che ce n'è ancora c'è ancora molto da lavorare quindi la fusione non è una prospettiva realistica nell'ottica della decarbonizzazione lo sarà sarà sicuramente parte dell'energia del futuro ma lo sarà molto più in là per quanto riguarda quindi le strategie di decarbonizzazione restano poche alternative i sistemi di accumulo ad oggi sono fantascienza nel senso sarebbe bello se bastasse una cosa grande come il colosseo per alimentare roma più probabilmente ne servono 13 o 14 di strutture grandi come il colosseo per alimentare roma e soprattutto sono soggette a deterioramento le batterie e anche hanno anche un potenziale chimico notevole per cui un incendio ad un grosso diciamo sito di stoccaggio a batteria è un problema detto questo hanno calcolato che se dovessero alimentare londra con delle batterie un incendio a un posto del genere avrebbe lo stesso potenziale distruttivo della bomba di roshino per capirci quindi restano due alternative il gas che è sicuramente quello che stiamo usando adesso e che resta nella prospettiva di breve termine l'unica opzione perché quello abbiamo e la fissione nucleare poi ripeto se la fissione vogliamo utilizzare la terza generazione avanzata la quarta generazione con reattori di grossa taglia o con reattori piccoli modulari il presupposto di tutto questo e che si inizia a lavorare già adesso per costruire il consenso tra la popolazione e le normative queste sono le cose su cui io insisto prego massimiliano obiettivi di un paziente per riterraneo dopo magari cambiamo giro e facciamo iniziare luca giusto perché a mezz'ora solo per dire a me la teoria piace dopodiché bisogna scendere nel pratico e se non possiamo mettere sullo stesso piano un reattore piccolo tra virgolette piccolo modulare con un reattore che oggi vediamo nella francia negli stati uniti e tutto il resto anche a impatto visivo e impatto a livello di movimento del territorio cioè nel senso che comunque come ho detto prima non ci sono le condizioni per fare oggi un reattore come li conosciamo quindi se noi siamo bravi e capaci ad andare dal duemilatrenta in poi magari iniziando a parlarne ora come dice giustamente luca con dei reattori piccoli e modulari è una cosa se invece noi crediamo di vincere in questo paese la battaglia sulla centrale nucleare simile a quelle che ha simili a quelle che stanno in francia io ho forti dubbi che questa cosa possa accadere in questo paese massimiliano quindi ma ho forti dubbi anche che qualcuno ci metta una fish sopra perché voi con continuate a non tenere con in considerazione prima luca se non sbaglio diceva che ci vorrebbero correggimi luca 15 centrali nucleari in italia correggimi se sbaglio 15 reattori quindi 3 4 centrali da 3 4 3 4 centrali cioè 3 4 centrali centrali fondamentalmente considerando che costano faccio una media e 5 miliardi 5 miliardi per 4 fanno fanno 20 miliardi in condizioni molti di più molti di più molti di più sono 5 miliardi a reattore quindi sono sarebbero 15 sarebbero 15 miliardi a centrale saremmo sui 75 80 miliardi di euro 75 80 miliardi 75 80 miliardi voi ditemi chi metterebbe 75 80 miliardi oppure parte di questi 75 80 miliardi in una situazione del genere non stiamo in francia bisogna essere realisti perché altrimenti si corre il rischio di andare a fare uno scontro ideologico come sono ideologici alcuni che scrivono sotto i miei social vabbè ma va bene lo stesso per per non aver nessun risultato allora si veniva riso scusa se ti interrompo no figurati ti chiedo soltanto per concludere l'intervento quindi small modular reactor da oggi saresti sareste d'accordo sarete favorevoli ok perfetto luca prego se vuoi rispondere poi magari invertiamo giro allora solo due cose veloci innanzitutto gli small modular reactors non servirà aspettare il 2030 perché il primo modello è già stato licenziato dalla nuclear regulatory commission degli stati uniti quindi il primo smr in commercio lo avremo nel 2025 sarà il power module di new scale da 200 megawatt termici 70 elettrici tenete presente che con questi reattori piccoli si può fare teleriscaldamento quindi quei 200 megawatt termici sono un valore importante il secondo lo avremo nel 2026 e sarà il bvr x300 del consorzio generale elettrico itaci nel 2028 dovrebbe poi arrivare il modello di rolls royce da 440 megawatt quindi per fortuna i reattori piccoli modulari a differenza della quarta generazione perché sono due concetti trasversali la quarta generazione la terza generazione sono concetti che hanno a che fare con il tipo di tecnologia mentre il concetto di miniaturizzazione è parallelo tra virgolette trasversale quindi i reattori piccoli modulari sono una tecnologia che avremo già nella seconda metà degli anni venti i reattori di quarta generazione più probabilmente abbiamo già dei prototipi ma saranno disponibili su scala commerciale negli anni 30 per quanto sono perfetti con i tempi sì ma ripeto infatti io l'ho già detto io non penso di iniziare a costruire un reattore domani penso che però per iniziare a costruire un reattore per aprire il cantiere nel 2030 bisogna aver già fatto prima tutta una serie di interventi legislativi e bisogna aver già fatto prima un lavoro di divulgazione presso la popolazione generale dopodiché l'altra cosa che volevo dire e su chi ci metterebbe i soldi tra il 2010 e il 2030 l'italia spenderà in incentivi alle rinnovabili 220 miliardi di euro chi ce li ha messi coi soldi cioè il contribuente appunto quindi voglio dire perché se lo stato ha incentivato con 220 miliardi di euro le rinnovabili non può darne 75 alle centrali nucleari che produrrebbero pure di più perché sulle rinnovabili perché sulle rinnovabili sono tutti d'accordo sul nucleare no si tratta però di fare un'opera di convincimento perché il parco reattori nucleari francese costato 146 miliardi ok e produce dieci volte l'energia delle rinnovabili italiane però che sono costate di più quindi a livello economico non capisco perché sia impensabile un'incentivazione statale dopodiché chi ci metterebbe un euro possiamo chiedere nel senso in olanda l'hanno fatto e l'olanda adesso costruirà nuove centrali nucleari ha già stanziato 5 miliardi diciamo per i progetti preliminari ma prima di fare questa roba l'olanda ha fatto una survey tra tutte le imprese europee potenzialmente interessate ha detto noi vorremmo costruire centrali nucleari ma non vogliamo finanziarle unicamente con i soldi pubblici chi ci metterebbe dei soldi hanno fatto proprio una specie di sondaggio tra virgolette e ci sono una serie di imprese che si sono dette interessate a finanziare infatti il senso della tassonomia esatto quindi perché anche in italia volendo potremmo magari hai ragione tu magari non ci mette nessuno ci mette un euro in italia perché non si fidano però chiedere non costa magari costa qualche migliaio di euro però voglio dire non è una cifra che non possiamo permetterci nel bilancio dello stato quindi una survey tra le aziende potenzialmente interessate la farei secondo me potremmo avere delle sorprese secondo me una grande azienda come fiat sarebbe contenta di finanziare un smr per potersi solo staccare dalla rete e autoalimentare e avere sia il calore per i processi termici sia l'energia elettrica per i processi elettrici faccio luca se posso io ripartirei sempre da te così invertiamo il giro domandandoti proprio in merito alla tassonomia visto che è stata citata cambia qualcosa dal punto di vista del nucleare con questa scelta magari anche dal punto di vista italiano comunque in generale a livello europeo gli investimenti potrebbero aumentare ed essere favoriti privati intendiamo anche per quanto riguarda il nucleare beh sì nel senso non è esattamente una coincidenza che nella stessa è uscita la tassonomia e nel giro di due settimane la la polonia ha detto che ha sfirmato la partnership con westing house e jtachi e per per i reattori modulari la francia ha detto 14 nuovi epr da qui al 2050 l'olanda ha detto almeno due reattori di grossa taglia entro il 2030 cioè non è una coincidenza e persino la corea nello stesso giorno nella stessa settimana ha inserito il nucleare nella sua tassonomia la corea del sud questo giunge tra l'altro all'indomani del fatto che il canada ha iniziato a fare diciamo dato la possibilità agli operatori nucleari di finanziare le centrali con i green bond quindi da oggi in canada da oggi dal mese scorso le aziende che gestiscono e costruiscono i reattori possono emettere green bond per finanziare i lavori sulle centrali o il finanziamento di nuovi progetti quindi è chiaro che dal punto di vista degli investitori questa tassonomia è una cosa assolutamente positiva anzi va a un po ad aggredire quello che è oggi il il principale fattore di costo del nucleare che sono proprio i tassi di interesse perché con la tassonomia visto che l'europa smette sostanzialmente un bollino verde sul nucleare ti dice questa tecnologia è verde te lo dico io l'imprenditore è più portato a fidarsi e quindi a investire con un tasso di tasso di interesse più basso e quindi si va a aggredire la componente più più grossa più corposa del costo poi del chilofattore nucleare quindi questo è una tassonomia una notizia molto bella bisogna vedere in Italia come come sarà presa questa cosa l'Italia ha un po rinunciato alla battaglia sulla tassonomia e non parlo tanto del nucleare ma del gas il gas è entrato nella tassonomia con dei requisiti molto stringenti che escludono completamente i progetti italiani sostanzialmente gli unici che potranno costruire centrali a gas godendo dei benefici della tassonomia sono i tedeschi perché il requisito è che le nuove impianti a gas devono andare a sostituire impianti a carbone con una riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento e una comunque un tasso di emissioni inferiore a 270 grammi di co2 per chilowattore queste condizioni lasciano sostanzialmente l'Italia fuori per cui tutte le nuove tutti i nuovi impianti picker a gas in Italia non saranno inclusi nella tassonomia e questo secondo me è stato un errore strategico nel senso dal nostro dal punto di vista del nostro interesse nazionale sicuramente non è stato tutelato in sede europea poi dopo di che io sono da questo punto di vista sono assolutamente con gli erogolino io sono un europeista convinto quindi penso anch'io che ci vorrebbe una politica energetica europea ma bisognerebbe che Francia e Germania si mettessero d'accordo non la vedo non acilissima perfetto prego massimiliano sulla questione della tassonomia è chiaro che come a più volte detto la commissione europea i 360 miliardi all'anno che servirebbero per la transizione ecologica di tutto il vecchio continente non bastano e quindi è chiaro che o si attirano dei dei capitali eh dei capitali privati oppure diventa diventa difficile ora a parte quello che ho detto prima riguarda che che riguardava un po' quello che riprendeva Luca dieci secondi fa e quindi la mancanza di un piano energetico europeo perché se tu c'hai un piano energetico europeo con delle reti che ti permettono di avere su di mettere per terra questo piano energetico europeo è chiaro che tu puoi anche fare un calcolo totale e dire nucleare gas rinnovabili qui questo qui quell'altro se poi invece ognuno deve fare per sé è chiaro che come ho detto prima ognuno ha la sua storia ognuno ha la sua storia politica ognuno ha la sua storia democratica io non mi sognerei mai come ho detto prima di andare in Francia a dire chiudete le centrali nucleari così come non mi sognerei andare negli Stati Uniti a fare una cosa del genere quindi per me la tassonomia io non sono uno di quelli che quando è uscita la notizia dell'approvazione della tassonomia si è strappati i capelli perché hanno finanziato anche il nucleare o il gas mi sembrava abbastanza normale ieri ieri piazza pulita che l'ho vista no faceva vedere la cartina dell'Europa con tutte le centrali nucleari che sono intorno all'Italia è chiaro che quella roba lì esiste nessuno si sogna nessuno si deve sognare di chiuderla dopodiché se scendiamo nel particolare Italia e qualcuno più vecchio di me che qualcuno più vecchio di me chiamava caso Italia allora lì le questioni iniziano a diventare differenti per quello che ho tentato di dire prima sulla questione economica su chi metterebbe i soldi per il nucleare in Italia io sono sempre scettico perché qui a livello di privati sia italiani che europei si fa difficoltà ad avere dei finanziamenti prima prima parlavo delle energie rinnovabili scusate se torno su questo perché è un punto importante l'impatto di un impianto rinnovabile è chiaro che è diverso dall'impatto di un impianto nucleare almeno almeno visivamente mettiamola così ora non si riesce non si riesce a dare a mettere all'asta e fa partecipare i privati all'asta per 7.7 8 gigawatt all'anno ma perché non si riesce non si riesce perché i leader autorizzativo è così farraginoso in questo paese che un investitore privato italiano o straniero prima di mettere dei soldi che non sono 15 miliardi che dovrebbero invece essere utilizzati per una centrale nucleare ma sono molti di meno prima di mettere prima di mettere dei soldi per partecipare a quell'asta ci pensa 10 mila volte e quindi noi invece di installare 8 gigawatt all'anno ne installiamo 0708 proprio per questo perché questo paese a livello di diritto a livello di diritto è un paese che fa schifo perché la certezza del diritto non esiste quindi non esiste neanche la certezza degli investimenti ho chiuso perfetto grazie massimiliano io ti chiederai in chiusura ormai visto che ti faccio queste domande secche eh alla fine dal pubblico domanda per il volino la germania ha fatto bene o male a rinunciare al nucleare secondo lui non può rispondere che una decisione loro non si mischia cioè non può rispondere che una decisione no 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 la vogliamo secondo me ha fatto male ha fatto male perché aveva una storia che comunque andava in quella direzione non capisco perché abbandonato però va bene rispetto rispetto le scelte astrutte però secondo me era una strada che comunque aveva percorso aveva fatto già il grosso è come dire è come se dire se uno è d'accordo o meno se sarebbe d'accordo o meno che che la Francia abbandonasse il nucleare mi sembra abbastanza napolia anche perché mi pare siamo intorno al 70 per cento di energia in Francia si 70 75 dipende un po dall'anno quest'anno hanno avuto un po' di manutenzioni straordinarie quindi sarà un po' un po' di meno ma ci sono anni in cui è raggiunto quasi l'ottanta tra l'altro la Germania ha chiuso dei reattori che innanzitutto potevano operare ancora per almeno 20 anni alcuni dei quali eccellenti hanno avuto dei reattori di gronde che hanno chiuso dicembre l'anno scorso aveva fatto proprio l'anno scorso un record di performance quindi veramente il reattore di gronde mi sembra che sia il più alto record di operatività per un reattore ad acqua leggera i reattori ad acqua pesante hanno dei numeri molto più alti perché non puoi puoi farli puoi sostituire l'uranio tenendoli accesi e quindi vanno avanti anche tre anni senza spegnersi come quelli canadesi però invece i reattori ad acqua pressurizzata no perché devi depressurizzare e ripressurizzare il nocciolo e i record erano tutti dei reattori tedeschi quindi pensate che spreco certo e luca io ti allegherei un'altra domanda fatta sempre da un'altra un'altra utente è molto complessa quindi vediamo se riuscirai a stare nei tempi penso anche una di quelle che ti fanno più spesso domanda per luca visto che una delle perplessità più grandi dell'opinione pubblica legata alla sicurezza perché il nucleare è sicuro allora il nucleare è sicuro innanzitutto perché oggi proprio perché c'è una forte preoccupazione sulla sicurezza nucleare gli impianti nucleari sono adottati di sistemi di sicurezza avanzatissimi ridondanti passivi quindi indipendenti dal controllo umano in un numero abnorme cioè proprio perché c'è una forte preoccupazione per cui le persone vogliono essere assicurate si mettono sistemi di sicurezza talmente ridondanti che la maggior parte sono inutili per capirci prima ho parlato di manutenzioni straordinarie della delle centrali francesi perché hanno scoperto che alcuni sistemi di sicurezza avevano della ruggine della corrosione ma perché ce l'avevano perché in 40 anni non li ha mai dovuti usare quindi questi sistemi di sicurezza non sono mai entrati in funzione una volta in 40 anni ma adesso li devono manutenere perché come dire se lasci una roba 40 anni si deteriora ovviamente quindi nel la maggior parte dei sistemi c'è diciamo una centrale nucleare a qualcosa come da un incidente a una dispersione radiologica all'esterno dell'impianto ci sono qualcosa come 30 barriere nei 30 cose che possono intervenire a bloccare e non si è mai andati oltre le prime tre o quattro dove non sono dovuto intervenire per capire di cosa stiamo parlando per cui le centrali nucleari d'altra parte voglio dire il paragone che faccio sempre è quello con gli aerei no siccome le persone hanno paura di volare perché ti devi affidare innanzitutto innanzitutto perché sei per aria e se cadi muori se ti schianti in macchina magari sopravvivi se cadi da me muori e poi non lo guidi tu l'aereo quindi devi affidarti a qualcuno che ha esperienza ma che non conosci e quindi proprio per questo i sistemi di sicurezza degli aerei sono avanzatissimi e sono arrivati ad un punto tale che prendere l'aereo è più sicuro che andare a piedi cioè muore più gente andando a piedi che prendendo l'aereo e non solo anche in questo senso ci sono delle cose che vengono fatte per rassicurare le persone sulla sulla sicurezza degli aerei che non servono a niente per esempio le divise del personale il personale di bordo degli aerei tutto in divisa si elegantissimi perché mica gli serve la divisa per guidare l'aereo potrebbero guidarlo in tuta ma serve dare una apparenza professionale perché le persone si sentono più tranquille si sentono ok quello là è vestito elegante da un po da militare così mi dà subito l'idea di una persona professionale e affidabile a cui mi posso mettere in mano la mia vita allora però è come dire è solo apparenza è del tutto inutile e lo stesso vale per le centrali nucleari ci sono dei sistemi di sicurezza che sono assolutamente inutili ma che mettiamo lì perché ci fanno stare più tranquilli quindi oggi il nucleare la tecnologia più sicura e controllata del mondo le centrali di terza generazione a parte il fatto che non si è mai verificato un guasto in una centrale di terza generazione un guasto serio le centrali di terza generazione sono talmente sicure che se uno va a vedere gli assessment probabilistici che sono fatti anche dalle compagnie assicurative perché i reattori sono tutti assicurati almeno in europa gli assessment probabilistici fatti dalle compagnie assicurative parlano di una frequenza di possibili danni severi al nocciolo di 10 alla meno 7 eventi all'anno 10 alla meno 7 eventi all'anno vuol dire un evento c'è un guasto grave ogni 10 milioni di anni di operatività quindi sono sono un numero impressionante molto molto basso diciamo qua non impossibile ma molto improbabile impossibile non è una frase che si può dire scientificamente ma siamo a livello che prima di preoccuparci di un incidente al reattore nucleare dovremmo preoccuparci di un'eruzione del vesuvio per esempio molto più probabile quella di un incidente nella centrale moderna perfetto grazie luca per la risposta c'è una domanda molto molto interessante che ci fa stefank 23 che ringraziamo e la girerei prima massimiliano ma credo sia interessante per entrambi ci dice la vera domanda è perché i politici dovrebbero prendere decisioni su questioni così tecniche scientifiche come il piano energetico nazionale senza capire assolutamente niente dice lui ignorando completamente il parere della comunità scientifica quindi una domanda secondo molto interessante proprio su chi dovrebbe prendere queste decisioni allora mettiamola così è chiaro che un politico quando deve prendere delle decisioni del genere si attornia di persone si spera capaci scientificamente che conoscono la materia eccetera eccetera dopodiché noi a mio avviso in questo caso abbiamo una fortuna perché al ministero della transizione ecologica non c'è uno che passa lì lo prendono solo perché fa parte del partito democratico di forza italia o della lega o del movimento cinque stelle ma c'è a mio avviso una persona che di scienza ci capisce che roberto cingolani e che fortunatamente a mio avviso è uno che quando tratta queste cose tiene in considerazione tutto perché è torno alla questione iniziale la teoria va benissimo continuiamo a parlarne continuiamo a dibattere sulla questione teorica dopodiché quella teoria va messa a terra quindi avere uno scienziato come cingolani che non sarà sicuramente un premio nobel ma preferisco avere cingolani al ministero della transizione che un politico al ministero al ministero della transizione soprattutto in questo in questo momento deve mettere insieme da una parte la comunità scientifica quello che dice ma dall'altra parte anche la fattibilità della cosa perché io torno al torno alla questione iniziale noi abbiamo un problema grave che va avanti da alcuni anni che non abbiamo un sito per le scorie questo non lo dico come ho detto in come come ho già detto in apertura perché perché non possiamo quindi non possiamo fare una centrale perché non c'è un sito per le scorie ok lo dico perché già questo paese ha problemi grossi per individuare un sito per il deposito nazionale e su questo ci dovremmo fare tutti insieme una grande battaglia già a questi problemi figuriamoci se da domani mattina usciamo con la notizia il governo vuole aprire cinque centrali nucleari è questo il punto il punto è la questione democratica quindi il rapporto tra i cittadini e le istituzioni che in questo paese è andato a puttane scusate la volgarità no ci mancherebbe è andato a puttane o facciamo di tutto per far avvicinare le istituzioni i cittadini alle istituzioni oppure qualsiasi scelta energetica l'andremo a pagare perché il caro di il caro bollette che vediamo in questi giorni è fondamentalmente per una cosa perché non siamo autosufficienti perché se fossimo autosufficienti ce ne fregherebbe che della russia e di tutto quello che c'è intorno ma visto che purtroppo in questo paese c'è una mancanza di democrazia e c'è un problema enorme tra cittadini e istituzioni perché i cittadini non si fidano delle istituzioni e quindi non si fidano delle scelte lo vediamo dagli impianti di compostaggio agli impianti incenerimento agli impianti a biogas lo vediamo per il deposito unico lo vedremo semmai sarà per le centrali nucleari allora o facciamo uno sforzo di capire che questo è il punto centrale oppure rimane tutta teoria perfetto massimiliano precisissimo nei tempi se non ti sei messo un timer no lo hai fatto bene prego luca se vuoi rispondere dunque allora io sono abbastanza d'accordo sul fatto che in italia ci sia come diceva prima una non certezza del diritto che si traduce in una non certezza degli investimenti investimenti e una distanza tra i cittadini e le istituzioni tra l'altro noi siamo i primi sulla pagina e fuori a fare le battaglie a favore del deposito nazionale non so se massimiliano quanto ci segua ma tu matteo penso che lo sappia dopodiché io non penso anche penso anche che non bisogna un po con cioè questo è uno status quo al quale secondo me non bisogna arrendersi bisogna cioè un po come quando 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 si dice in italia non possiamo fare il nucleare perché c'è la mafia e ma se si accetti questa cosa passivamente la mafia ha già vinto bisogna proprio perché c'è la mafia dobbiamo dimostrare che siamo in grado di fare le cose nonostante la mafia altrimenti gliela diamo vinta i mafiosi e quindi in questo senso io sono come dire penso che bisogna essere proattivi dopodiché purtroppo allora per quanto riguarda le decisioni politiche cingolani è un tecnico ed è al ministero perché abbiamo un governo tecnico purtroppo non è sempre così perché prima di cingolani avevamo un signore che si chiamava costa che ha mandato un documento per la decarbonizzazione italiana alla commissione europea che abbiamo letto e fa ridere fa ridere perché parla di 100 teravattora di batterie da qui al 2050 e 100 teravattora di batterie sono 25 mila miliardi di euro ai prezzi di oggi e il litio è salito del 500 per cento nell'ultimo anno quindi è chiaro che c'è una roba che ci facciano ridere dietro cioè per fare 100 teravattora di batterie servirebbero due miliardi di tonnellate di litio cioè dieci volte l'attuale produzione mondiale di cosa stiamo parlando ecco e assieme a costa che era quello che era nello stesso governo c'era un altro signore si chiamava lorenzo fioramonti ministero dell'istruzione dell'università della ricerca che ha assunto come consulente al ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca una che si chiama vandana shiva che è quella che diceva che la xylella si curava abbracciando gli alberi che è riuscita praticamente da sola a provocare una carestina in sri lanka cioè il governo dello sri lanka l'assunta come consulente sei mesi dopo ha dovuto dichiarare come consulente all'agricoltura sei mesi dopo ha dovuto dichiarare l'emergenza alimentare con l'esercito che razionava il cibo ok quindi purtroppo il governo tecnico è un'eccezione non è la regola e quindi per me il problema dei politici che prendono decisioni ideologiche senza assolutamente consultarsi con i tecnici è un problema serio perché cingolani ripeto l'eccezione non la regola e tra l'altro cingolani già si trova a dirigere un ministero che non dovrebbe esistere io questo l'ho detto già più volte e lo ripeto non si possono accorpare in uno stesso ministero le tematiche ambientali di tutela del territorio e le tematiche energetiche perché sono due cose completamente diverse in tutti gli altri paesi l'energia e competenza del ministero dell'industria quando non hanno un ministero ad hoc gli altri paesi hanno il ministro della produzione industriale ed energetica solo noi pensiamo che gestire l'approvvigionamento di energia quindi l'approvvigionamento di gas petrolio petrolio perché per i carburanti l'importo e esporto di energia elettrica gli impianti rinnovabili centri qualcosa con la tutela del territorio con i parchi naturali con l'inquinamento solo noi in tutti gli altri paesi la politica energetica sono più affini alle politiche industriali quindi già il ministero di cingolani non dovrebbe esistere dopodiché bene che ci sia cingolani che è un tecnico però purtroppo e l'eccezione non la regola abbiamo avuto non voglio dire però abbiamo deciso che abbiamo sdoganato le parole abbiamo avuto dei cani al ministro dell'ambiente nei decenni passati tanto su tutti ci direi che possiamo dirle fino a un certo punto quindi andiamo tranquilli e grazie il canale comunque il canale comunque al disclaimer che la visione destinata a un pubblico adulto esatto quindi ce la caviamo proprio perfettamente su questo allora non so se massimiliano vuole replicare se no io vi introduco un'altra domanda perfetto questa che è rivolta invece a luca ed è di cespito adesso non la ritrovo in chat perché ne sono arrivate tantissime anzi vi ringraziamo a un punto ragazzi fateci pure domande ne sono arrivate a decine e decine quindi anzi scusateci se non riusciremo a rispondere a tutte già questa sera e cespito chiede a luca qual è il senso di investire oggi sul nucleare consapevoli del fatto che tra nemmeno 80 anni non ci sarà più uranio e considerati dieci anni per la costruzione di una centrale partendo da presupposti falsi si può dire quello che pare non è vero che tra 80 anni non ci sarà più uranio ma dove sta scritta sta roba cioè le sole riserve di uranio quindi le riserve sono le miniere che già conosciamo e dove sappiamo di poter estrarre il minerale a prezzi favorevoli solo quelle la durata è prevista per 130 anni anche in caso i consumi raddoppino i consumi di energia nucleare raddoppino quindi già sta cifra di 80 anni non capisco da dove è arrivata poi si confondono riserve con risorse perché le risorse invece sono le riserve note le riserve che ancora non conosciamo quindi miniere ancora da scoprire le riserve che conosciamo ma che oggi non sappiamo sfruttare in maniera economicamente conveniente quindi miniere dove per esempio non sappiamo ancora come che sono magari situati in dei luoghi un po particolari dove non è facile estrarre o tecnologiche richiedono tecnologie che sono ancora in via di sviluppo quindi se andiamo a contare tutte queste cose l'estrazione di uranio dai solfati l'estrazione di uranio dall'acqua di mare il riciclo delle scorie nucleari abbiamo uranio per 25 mila anni non per 80 25 mila ma non ai consumi attuali supponendo di alimentare l'umanità con solo energia nucleare e abbiamo 25 mila anni solo di uranio perché poi c'è il torio e sono altri 75 mila anni quindi semplicemente una cosa falsa questa qua quello non è un problema no decisamente decisamente non è un problema aggiungo che il problema di credere a queste cose fa e che poi come dire si casca nell'errore che è stato fatto per il petrolio e per il gas il petrolio doveva già usare tre o quattro volte ogni volta l'esaurimento delle riserve viene collocato un po più in là perché perché prima era conveniente estrarre 10 perché il petrolio costava 20 nel momento in cui il petrolio costa 30 al posto di estrarre 10 puoi estrarre di più perché come dire hai interesse a sfruttare tecnologie magari costose un esempio il fracking quando il prezzo del petrolio era basso il fracking non conveniva e quindi non si estraeva con il fracking ma quando il prezzo del petrolio sale diventa conveniente estrarre col fracking ed ecco che le tue riserve di petrolio sono raddoppiate e quindi il petrolio deve finire la prima volta negli anni 70 20 anni fa l'ha detto ieri sera in trasmissione da formigli 20 anni fa si prevedeva che ci fossero 30 anni di riserve di gas adesso si prevede che ci sono 52 sono passati 20 anni e ne hanno aggiunti 52 quindi questo errore è proprio l'errore di confondere le riserve con le risorse perfetto grazie luca io direi di andare verso la chiusura ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito e restituendo magari la parola al padrone di casa e ringraziando ancora anche massimiliano ieri pulino grazie a voi per questo interessantissimo confronto io io ringrazio matteo che è stato un ottimo moderatore e che veramente fa piacere vedere anche ragazzi così giovani così coinvolti così appassionati anche di politica e di questioni economiche ambientali e sociali è una cosa molto bella e spero che tu non sia un'eccezione e poi ringrazio massimiliano che appunto è venuto a confrontarsi in trasferta è stato un confronto anche come dire su toni amichevoli molto molto migliore di quello che c'è stato ieri sera da formigli o di quelli a cui sono abituato insomma su altri canali quindi io ringrazio entrambi e niente ricordo agli spettatori che sarò in live domenica pomeriggio per commentare la trasmissione la puntata delle iene di giovedì sera quindi la vedremo in diretta io farò un po di commenti e poi saremo di nuovo in live lunedì sera con il professor sergio saia per parlare professore di agronomia per parlare di eh impatto ambientale delle coltivazioni degli allevamenti e auguro la buonanotte a tutti e buon weekend buonanotte grazie buona serata